Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Wukong, Black Myth Wukong. Perché? Perché oggi parliamo di come ottenere il cimelio leggendario del lago da ricamo. Uno dei cimeli che probabilmente è, a mio avviso, uno tra i più forti fondamentalmente, sia per le stats, perché dona crit rate e crit damage, e anche per l'effetto, ovvero una sorta di ago homing che colpisce continuamente i nemici. Quindi può rivelarsi molto utile, soprattutto contro il boss del quarto capitolo. Cosa che io non ho utilizzato, perché ho combattuto proprio a livello hardcore, come si suol dire, bestemmiando come un saraceno, però ce l'ho fatta. Ma so che comunque questo cimelio molti non lo hanno trovato. Ho letto in giro che molti non lo hanno trovato e molti non sono riusciti ad ottenerlo. E su questa cosa effettivamente potrei anche concordare, data la difficoltà di esplorazione di alcune mappe, che purtroppo, non avendo la possibilità di essere consultate da nessuna parte, giocano tutte a memoria. Quindi se voi avete una buona memoria, un buon orientamento, bene. Se non avete una buona memoria, un buon orientamento, siete fottuti, letteralmente. Quindi oggi vi do una mano, vi aiuto, fondamentalmente indicandovi passo per passo cosa fare per ottenere il lago da ricamo. Ok? È una cosa molto molto importante. Ci tengo a dire innanzitutto che vi consiglio fortemente di arrivare praticamente fino alla fine del capitolo 4. Quindi magari fare questo backtracking o magari fare questo viaggio, perché fondamentalmente sarà un viaggio, solamente a fine quarto capitolo. Come farete a capire di essere alla fine del quarto capitolo? Quando sbloccherete praticamente il teleport cortile della luminosità. Quindi quando voi arriverete al cortile della luminosità, saprete già di essere praticamente a fine quarto capitolo. Una volta arrivati qui, fermatevi e fate questo backtracking se non avete ottenuto lago da ricamo. Perché è importante ottenere quest'ago da ricamo? Perché appunto vi darà una sensibile mano contro il boss finale di questo capitolo. Quindi se avete difficoltà con quest'ago, avrete la vita molto più facile. Ma prima di ottenere quest'ago, dovrete ottenerne un altro, che è l'ago insanguinato. L'ago insanguinato si trova, o comunque si ottiene, dopo aver affrontato il boss di Beji, di Bagie o Beji, che sarebbe praticamente il cinghialozzo che vi accompagna durante la vostra esplorazione. che verrà corrotto, in un certo senso, e poi una volta abbattuto, avrete modo di estrarre questo ago dalla sua testa, che appunto lo soggiocava e lo... come dire... gli confondeva i pensieri, e dopodiché potrete fare tutto quello che vi farò vedere adesso. Cominciamo a teletrasportarci, praticamente, nell'antro delle ragnatele, e soprattutto nell'antro superiore. Quindi uno dei primi teleport, praticamente, che avete a disposizione. E una volta fatto questo, dovrete praticamente percorrere questa strada, che adesso vi farò vedere. che adesso vi farò vedere. come potete notare, è una strada abbastanza lineare. L'unico, diciamo, punto cieco che potrebbe ingannarvi è praticamente la discesa. Dove ci sono appunto le tavole di legno, dovete scendere verso il basso e riuscire, praticamente, poi a percorrere tutta la strada, dritta per dritta. Una volta percorsa tutta la strada, arriverete su un altro, praticamente, ai pressi di un altro, di un altro santuario, di un altro templio, che in questo caso è il lago dei frammenti di Giada. Quindi mettete qui il checkpoint, sbloccate, ovviamente, questo santuario, dopodiché proseguite dritto. Una volta che proseguirete dritto in questa direzione, praticamente, arriverete a un vicolo cieco. Un vicolo cieco, dove qui davanti vi si presenterà un enorme bozzolo. Un enorme bozzolo che prenderà il nome di bozzolo misterioso ed è una boss fight. Combattetela, fino a quando arriverà all'incirca al 10-15% di HP, dopodiché assisterete una cutscene. Da questa cutscene uscirà fuori un altro boss. Affrontate questo boss nella sua prima parte e dopodiché andate avanti, perché questo boss, ovviamente, verrà sconfitto, ma non sarà ucciso, quindi non lo avrete eliminato definitivamente. Infatti, il vostro nemico scapperà, e si dirigerà verso il prossimo luogo in cui andremo adesso e vi farò vedere come raggiungerlo e dove, ovviamente, combattere. Questa è un'altra delle motivazioni per il quale vi ho consigliato di raggiungere il giardino della radiosità prima di poter effettuare questa side quest, perché il giardino della radiosità è il luogo più vicino per raggiungere la seconda parte della boss fight. infatti, ci teletrasportiamo qui, dove siamo appunto, ve lo faccio vedere giusto per conferma, al cortile della luminosità, io l'ho chiamato radiosità, ma in realtà è della luminosità, e praticamente dovrete rifare la strada all'indietro. Quindi voi siete arrivati praticamente da questa direzione e dovrete proseguire da questo lato fino a dove vi faccio vedere io. ecco qua, arrivato in questa zona praticamente c'è una biforcazione dove sulla destra incontrerete il boss. Se non avete fatto niente di quello che vi ho detto in precedenza qui troverete soltanto una zona vuota senza niente o comunque diciamo una zona che ancora non è completa al 100%, anche perché come potete notare l'arena fa presupporre che appunto qui ci sarà una boss fight ed è così. una volta affrontata la boss fight dovrete battere due volte il boss in questione dove la prima volta verrà sconfitto e la seconda volta verrà definitivamente eliminato. Una volta eliminato il vostro avversario si sbloccherà il momento Ariamis per coloro che hanno giocato a Dark Souls si sbloccherà letteralmente il momento Ariamis dove praticamente noi potremo entrare all'interno di questo quadro di questo quadro di questo murale letteralmente perché questo è un murale e praticamente percorrere una zona segreta della mappa. Una volta dentro la zona segreta che ovviamente viene definita proprio dal gioco stesso come zona segreta dovrete necessariamente seguire la strada ma il consiglio che vi do è quello di esplorare molto bene tutta la zona perché incontrerete boss incontrerete ovviamente degli oggetti importanti side quest e tante altre cosucce ovviamente non vi faccio spoiler perché qui parliamo solo ed esclusivamente del lago da ricamo quindi non mi metterò a parlare di altro però il consiglio che vi do è quello di esplorare con attenzione tutta questa zona arrivati qui sopra qui avvinghiato all'albero troverete un serpente un serpente che vi chiederà di salvare o comunque di recuperare fondamentalmente i resti del marito che addentrandosi nella foresta non ha più fatto ritorno e inoltre ci dà anche un consiglio portarci comunque delle cure contro il poison perché qui vive uno scorpione in particolare molto aggressivo e in più la maggior parte dei nemici infligge status poison quando praticamente combattete quindi se voi avete la mia stessa build che è quella che vi aumenta il critico e anzi scusatemi che vi aumenta l'attacco quando siete avvelenati praticamente giocate in casa altrimenti portatevi le cure se non vi sentite neanche troppo sicuri rispetto ovviamente a quello che potreste fare all'interno di questa zona dopodiché attraversate il ponte e iniziate l'esplorazione della vostra area o comunque iniziate l'esplorazione di tutta l'area che avrete a disposizione una volta che avrete esplorato tutta l'area a disposizione ci vediamo dove proseguire per ottenere l'ago da ricamo una volta che avrete fatto la vostra esplorazione e avrete completato tutto quello che c'era da completare e vogliate andare avanti con il recupero del lago da cucito o comunque lago da ricamo dovete praticamente raggiungere il villaggio dei petali questo è il templio anzi il santuario di riferimento il villaggio della pioggia di petali e praticamente proseguire dritto la vostra avventura andando avanti in questa sezione troverete anche un altro NPC che vi darà un'altra side quest ovvero la side quest di eliminare praticamente tutti quanti i diciamo le persone presenti all'interno di questo villaggio perché erano suoi amici o comunque erano in generale i suoi compagni e si trova esattamente qui ora in questo caso qui lui se n'è andato perché io ho già completato praticamente tutto e praticamente finisce lì non c'è nulla nulla da aggiungere nota importante sulla quest del taoista che incontrate praticamente qui se è andato ad affrontare il boss finale ragazzi perdete la quest quindi mi raccomando fatela prima in cosa consiste la quest andare qui dentro ovvero nel villaggio combattere praticamente i nemici umanoidi che incontrerete in giro per la mappa come quello lì che vedete lì molto tranquillo perché randomicamente vi dropperanno un oggetto un oggetto unico questo oggetto unico una volta droppato lo riportate indietro al taoista e poi scoprirete come andrà a finire la quest una volta che poi sarete riusciti comunque ad entrarvi all'interno del villaggio arriverete nei pressi dell'ultimo santuario che si trova praticamente lì di fronte a noi però come potete notare qui la strada è interrotta quindi dovrete fare tutto il giro largo eliminare tutti quelli che ci sono qua presenti e arrivare fino a lì una volta raggiunto il santuario ovvero il picco del nido annuvolato praticamente siete arrivati allo scontro finale di questa zona perché dovrete praticamente salire la scalinata e una volta salita la scalinata arriverete in questa sezione in questa in questa arena fondamentalmente una volta arrivati in questa arena dovrete affrontare un altro boss sconfitto la prima volta però purtroppo arriva il momento Bloodborne perché appunto partirà la luna insanguinata tutto lo scenario cambierà ci sarà una bella cutscene ad introduzione del nuovo boss che vi posso assicurare essere molto più forte rispetto alla versione precedente una volta sconfitto il boss arriverà nuovamente il serpente incontrato all'inizio diciamo di questa zona segreta e vi chiederà scusa per avervi ingannato e appunto per avervi costretto in un certo senso a porre fine alla sofferenza del marito e in segno di gratitudine trasformerà l'ago insanguinato che avrete ottenuto in precedenza in questo ovvero lago da ricamo oggetto leggendario che vi aiuterà tantissimo contro il boss di questo quarto capitolo quindi se avete difficoltà potete tranquillamente utilizzare questo accessorio o comunque questo c meglio per essere più precisi detto questo non credo che ci sia altro da dire è stato un video molto sbrigativo perché ho già fatto tutto e quindi vi ho semplicemente narrato quello che dovrete fare e quindi vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ovviamente vi invito a restare aggiornati sul canale per vedere altri video di questo genere detto ciò vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao